Benissimo, ci troviamo qui a Fiornoropoli, dove abbiamo tanti edifici, tantissime cose da fare. Diciamo che abbiamo il centro commerciale, che comunque ha tanti oggetti utili, per esempio per esempio, revitalizzanti, direi che a questo punto del gioco potrebbero risultarci utili. Ah, prima di spendere tutti i soldi, volevo comprare una, non questo, una mossa per qualche Pokémon. No, qui è ancora Nude, è su a piano superiore. Ecco, questa flash. Falso finale. Barriera di luce per ridurre gli attacchi, no. Ecco, questi sono gli attacchi. E chi lo usa sapeva... Questo è il per raggio. Questo è lanciafiamme o fuocobomba. no, non c'è. Ehm... Allora... Lampola... Vediamo. Allora, no, questo è solo il raggio. Io prenderei una... Sì, 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 sì. Vediamo cosa ho comprato. Allora... Aspettate. Nella borsa. Fuocobomba. Ehm... Come vedete ha una buona potenza, ottima potenza, 120. La precisione è 85, quindi non è 100%. Anche se... Ehm... Anche se... Qui lava potrebbe impalarla... Al posto di... Allora, vediamo. Brata a fuoco, potenza 60, precisione 100. Bracere, potenza 40. Ehm... Io direi di... Far dimenticare Bracere... E al posto mettere fuocobomba. Ah, bene. Ehm... Mi sembra che se... Se andiamo sul tetto... Ehm... Attraverso magari l'ascensore... Ehm... Si può? No? Vabbè, allora andiamo al... Piano Terra. Comunque non visitiamo tutto in modo minuzioso, perché altrimenti passiamo troppo tempo. Ehm... Quindi direi di fare le cose più importanti. Cioè... Allora, qui... C'è il casino. Bene. Però... Nel casino... Non possiamo... Mmm... Si, vediamo che prende... Ok. Ci da lui il salvadanaio, noi in Pokemon Nora bisognava andare in sotterraneo. Ah, ok. Dratini. Uh... Dratini, cavolo. Dratini io non lo vorrei. E' vero che si trova verso la fine di... C'è... Della regione. Non della... Del gioco, perché... Dopo... Questa regione ce n'è un'altra. Ah... Ci siamo... Ehm... Qui si possono vinti, però si possono ricevere premi, se non sbaglio. Oddio. Ehm... Vai. Allora... Allora... riter... Ritiriamo. Ow. Ah no, cioè. P... Un po... Ah, ok. Un po'... Vabbè, vabbè Ah, quelli indicavano quanti No, stesso Eh, non si possono scambiare C'entra No Non ti vedete di nuovo Sto parlando ovviamente Del PC di Bill Andiamo subito Intanto, intanto salviamo E E poi direi di andare subito Sotterranei Vabbè Non ci interessa niente Ciao ciao Scusate ragazzi Non ho dormito proprio Molto, molto Io voglio fare Allora Evolvere Zubat Intanto E poi Allenare Abra Allora Avalia I Si Ai Allora 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 Andiamo un altro Grimer continuiamo con Morse proviamo attacco d'ala ma invece fa di più attacco d'ala perché stab probabilmente qui non si può andare ora pure il Pokémon si taglia nei capelli no stavo leggendo una cosa interessante su Morgan sfrattato di casa dalle ex mogli un altro povero Cristo vittima del sistema monogamico patriarcale beh come non dargli torto al matrimonio più completo ci vorrebbe un avvocato a parte questi discorsi forse sono meglio i Pokémon forse sono meglio i Pokémon un Ligitung dovrebbe darci abbastanza exp si quasi quasi per arrivare al 18 bene questa qui mi sa che no non ci vediamo vediamo quali c'è lo stesso non mi interessa no roba di bellezza taglia i capelli non ce ne frega un cavolo anzi ce ne frega anzi ce ne frega ma dopo quando dobbiamo far evolvere Golbat in Crobat per la felicità credo per la felicità vediamo se fa più attacordata o si penso di sì oh peccato mandiamo Abra vediamo che avrà solo per trasporto esatto e lo sostituiamo con qui il lavone però Sonic Booma è estremamente forte perfetto Magna perché l'acciaio è molto debole al fuoco prodotto prodotto flama qui ha altri truffatori ancora non si è evoluto mi sa che allora si evolve al 23 22, 23 ah si sentret servirà di qualche livello ah no sbadiglio non ci vuole diamo di fuocobomba guardate che meraviglia è poco efficace però è fuocobomba ora si è veramente giustamente e un altro slupo e un altro fuoco dai adesso ti devi svegliare però ma no dai ha usato tutti i turni a sua disposizione per dormire non gli faccio un cavolo a sto punto vediamo con attacco rapido un cavolo benissimo andiamo di fuocobomba eh vedete che comunque si a parte il fatto che fallisce e siamo arrivati alla fine dei sotterranei a questo tipo cosa si dice allora per non allungare troppo la visita di questa città e concentrarla in un unico episodio direi che possiamo lasciarci qui come al solito vi auguro una buona giornata un buon proseguimento a tutti e al prossimo episodio di Pokémon Argento Anima ciao a tutti